Un grande successo del sistema Italia e va da parte di Confagricoltura un ringraziamento a tutti i nostri parlamentari. Il sistema dell'agroalimentare italiano ne escerà sicuramente rafforzato. Il nostro grande Made in Italy continuerà a correre rispetto a tutte quelle dinamiche volute dalla Commissione che al contrario ci volevano far tornare indietro. Il modello italiano del riciclo risulta vincente e soprattutto andremo adesso a vincere le ulteriori sfide di un mercato che sempre più chiede Made in Italy nel mondo.